L'alta pressione sull'Europa dell'Est protegge la penisola con afflusso di aria fresca e secca. Una bassa pressione sulle coste mediterranee della Spagna tende ad interessare anche la Sardegna e la Sicilia con mal tempo. In Toscana, giovedì 5 dicembre, nuvoloso, possibili locali deboli piogge sulla costa meridionale in serata, venti deboli orientali, mari poco mossi sotto costa, mossi a largo, temperature minime stazionario in lieve aumento sulla costa, in calo sulle zone interne con locali gelate anche forti, massime stazionario in lieve aumento con valori fino a 14-15 gradi. Sul territorio provinciale generalmente cielo velato, allucche sulla piana, temperatura minima 3, massima 14 gradi, a Castelnuovo Garfagnane e zone montane minima 0, massima 15, a Biareggio sul litorale minima 3, massima 15 gradi, venerdì nuovo peggioramento con cielo da nuvoloso fino a coperto, temperature indeciso rialzo, soprattutto le minime.